All'ospedale Grassi di Ostia sono in arrivo 950 mila euro. Il denaro che sarà utilizzato per la realizzazione di nuovi sistemi antincendio rientra nell'ambito dei finanziamenti previsti per le strutture sanitarie del Lazio, per un totale di 9 milioni di euro. La Giunta regionale ha approvato una delibera per l'adeguamento e la realizzazione di nuovi impianti di sicurezza nei nosocomi e nei presidi sanitari del territorio. Dei 9 milioni stanziati dal governo, 450 mila sono a carico della Regione Lazio. Gli stanziamenti sono immediatamente operativi e ripartiti per ciascuna azienda ospedaliera. Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza di pazienti e operatori, ha spiegato l'assessore regionale alla sinità Alessio D'Amato. Interveniamo su tutto il Lazio per modernizzare o realizzare ex novo impianti o rilevatori di fumo. Questi soldi ci permetteranno di avere una rete più efficace e allo stesso tempo di ridurre e razionalizzare gli addetti antincendio.